Il Lazio con 793 imprese è al terzo posto in Italia per numero di start-up dietro Lombardia ed Emilia-Romagna. Ma se con l'Emilia si gioca sostanzialmente dalla pari, il grande divario è con la Lombardia che ne conta più del doppio, 1851. Sulle 793 imprese laziali, 638, ovvero l'80,5%, operano nella capitale dove è forte la concentrazione dei servizi ed in particolare nel terziario con l'85% del totale. Il settore dell'artigianato incide per il 7,3% in provincia dato che scinde al 7,1% nella capitale. Interessanti le risposte degli imprenditori sulle motivazioni per l'avvio delle start-up, i quali per il 54% sono partiti dalla volontà di sfruttare una propria idea innovativa e per il restante 45,6% per valorizzare specifiche competenze. La gran parte di loro sono laureati, 79%, mentre solo il 23% dichiara di aver avuto esperienze di conduzione d'impresa. Non manca però l'altra faccia della medaglia, ovvero le difficoltà. Se per il 42,2% sono la mancanza di capitale per l'avvio, per il 44% meno di 10.000 euro, ben il 37% degli imprenditori lamenta la complessità, la lentezza di costi degli interburocratici che effettivamente rappresentano la vera zavorra della crescita italiana. Abbiamo molti centri di innovazione e di università, ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio Tagliavanti, ma non abbiamo una rete per creare un vero e proprio sistema e questo per noi rappresenta un obiettivo.